Il Cassino ferma la capolista Turris, la sfida di Torre del Greco finisce 2-2. Cassino subito in vantaggio al decimo, perfetto l'inserimento di Giglio che trafigge Lonoce e sblocca il parziale. Il Cassino resta in dieci, espulso al venticinquesimo per doppio giallo Orlando, ma nel finale di primo tempo raddoppia, gran giocata di Tribelli e destro sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa arriva la reazione della Turris, in mischia Alma trova il gol che vale il 2-1. In pieno recupero, esempio, realizza il pareggio che lascia tanto amaro in bocca al Cassino. La formazione di Corrado Urbano chiude il girone di andata a quota 25 punti, a meno 3 dalla zona playoff.